Queste sono immagini dello scorso aprile. Il ministro dell'economia Padoana interviene a Palazzo Madama davanti a pochi senatori. Lo stesso accade giovedì scorso, sempre al Senato praticamente vuoto, solo 13 presenti. Eppure il tema affrontato riguarda il delicato rapporto con l'Europa. E allora perché tanti banchi vuoti? Diciamo che in questo periodo alcuni partiti sono più concentrati, sembra, a fare campagna elettorale, a riposizionarsi all'interno dei loro partiti. Poi è vero che in questo periodo il Parlamento, come spesso è successo in questi anni, non lavora di proposte di legge e lavora pochissimi giorni a settimana sulla decretazione d'urgenza del Governo. Si potrebbero usare questi giorni, tipo il lunedì, ma anche il giovedì, che ormai l'aula è chiusa, per lavorare sulle proposte di legge invece del Parlamento. Perché ricordiamoci che per Costituzione ancora le leggi le dovrebbe fare il Parlamento. Immagini quelle dell'aula vuota che tuttavia rischiano di alimentare l'antipolitica. Beh, intanto i parlamentari non lavorano in una catena di montaggio. Un eletto deve rappresentare il popolo, lo può rappresentare in molte maniere. Poi, se dobbiamo fare la misura del lavoro parlamentare un tanto al chilo, insomma questo è un altro criterio. Sarebbe opportuno immaginare la qualità del lavoro parlamentare e capire se un deputato, magari grafomane, che scrive e presenta centinaia di proposte di legge, arriva a Dama e diventa qualcosa di realmente concreto. Il lavoro parlamentare si svolge in tre luoghi. L'aula del Parlamento, sicuramente le commissioni, anche quella è un'attività molto intensa che non preclude la possibilità di andare in aula ovviamente, il territorio. L'attività parlamentare si concentra soprattutto nei giorni centrali della settimana, ma in questo ultimo periodo, già il mercoledì sera, inizia il tutti a casa con i troll sia alla Camera che al Senato, proprio in quel Senato che gli italiani hanno salvato con il loro voto al referendum del 4 dicembre.